Devo dire che la storia qui viene rifatta a seconda di come uno desidera rifarla. Ronaldo aveva avuto un'offerta a Real Madrid, voleva andare a Real Madrid, qui aveva avuto tante di quelle disgrazie nell'ultimo anno che consideravo potesse essere una scelta anche per cambiare aria. Ma non è stata una scelta di Cooper su Ronaldo, Ronaldo voleva andare lì e mi sembrava forse anche giusto perché poi non era più lo stesso Ronaldo che avevamo precedentemente e per lui era una nuova apertura. Lo sa perfettamente Ronaldo, ma comunque è simpatico e lo ringrazio per quello che diceva ieri sera.